Stretta della Guardia di Finanza di Isernia sulle violazioni legate all'uso dei finanziamenti del bonus 110%. È scattata oggi all'alba l'operazione effettuata dalle fiamme gialle del Comando Provinciale Pentro e coordinata dalla Procura della Repubblica Isernina, che vedrebbe al centro delle indagini le agevolazioni fiscali previste dal Governo per le ristrutturazioni edilizie, come quelle legate all'efficientamento energetico, al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico. Le attività sono ancora in corso e l'operazione non è ancora conclusa, motivo per cui sulla vicenda permane il massimo riservo. A quanto sembrerebbe però, stando ad alcune indiscrezioni, i finanzieri partiti dalla caserma di Via 24 Maggio poco dopo le 5 di questa mattina avrebbero dato esecuzione a quattro misure cautelari, effettuate sia nel territorio provinciale sia fuori regione, per richieste di incentivi statali che a quanto pare sarebbero riconducibili all'area dell'Interland Pentro. Quella attualmente in corso sarebbe un'operazione di vasta portata, avvistato nella mattina di oggi nei cieli del capoluogo di provincia anche un elicottero recante le insegne delle fiamme gialle. Al vaglio ci sarebbe un'ipotesi di truffa per irregolarità legate all'ottienimento dei bonus e all'esecuzione dei relativi lavori edilizi in fase di verifica da parte di chi sta svolgendo gli accertamenti e le indagini, pare possa esserci l'effettiva realizzazione degli interventi oggetto di agevolazione. L'eventuale conferma con i relativi dettagli riguardanti la vicenda è attesa a conclusione delle indagini. Non è escluso che entro breve possa essere indetta dalla Procura di Isernia un'apposita conferenza stampa per illustrare le attività mirate ad individuare i furbetti del bonus del 110%. Grazie.